La coalizione di Maiorino è una coalizione ampia, oggi tra l'altro abbiamo letto sui giornali che il capolista della lista civica sarà Pregliasco. È una coalizione che guarda al centro, guarda ovviamente a sinistra, ma che tiene insieme tantissime forze. Quindi per noi l'appello al terzo polo è uguale a quello che abbiamo fatto per tanto tempo. Abbiamo lavorato insieme con tutte le opposizioni in questi anni, da Italia Viva a Azione fino al momento 5 Stelle, per 5 anni sui temi. Uniamoci sui temi. Una maggioranza prepotente che riscrive questa manovra senza nessun rispetto per il Parlamento e i luoghi di discussione, che fa retromarcia su questioni come il POS e ne lascia fuori altre fondamentali come opzione donna e l'aumento dei salari in un momento così difficile per tutto il Paese.